ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi voglio parlare di bakianma e della conclusione dell'epopea cominciata qualche anno fa su netflix da prima con baki una serie uscita nel 2020 divisa in tre parti e successivamente con bakianma stagione 1 e 2 parte 1 e parte 2 siamo giunti al termine di questo viaggio con l'ultima uscita di ieri 24 agosto e vi dirò onestamente cosa ne penso dell'intero prodotto vedete chi se ne frega però io comunque ve lo voglio dire in parte già comunque dovreste saperlo pertanto non vi starò a ripetere le solite cose delle decisioni precedenti che vi metto a merito informativo nei video suggeriti ogni minuto in alto a sinistra la seconda parte della seconda stagione alza l'asticella e va a colmare buona parte dei buchi di trana che si erano venuti a creare lungo tutto il tragitto che vi ho descritto ripercorre la storia dei personaggi e ci offre una fase alternativa diciamo una sottostoria cuscineto dove rezu si cimenta nel mondo della boxe ripercorrendo a titolo prettamente metaforico e più diramato e arzigogolato quello che poi condusse nella realtà lo scontro dimostrativo tra bruce lee e mohamed dalì il finale segreto se così lo possiamo definire o più semplicemente il pezzo dopo i titoli di coda dell'ultima puntata mostra palesi le similitudini in un'intervista dove lo stesso rezu rimarca di non aver potuto usare calci ginocchi e gomiti guardando comunque la serie capirete questa affermazione sempre che siate patiti sia di anime che della vita del grande per me maestro bruce lee quello che tutti si aspettavano tuttavia il vero fulcro della storia è lo scontro tra l'uomo più potente del mondo yujiro han ma detto anche logre e il figlio baki per stabilire una volta per tutte chi sia veramente l'essere più potente in assoluto scontro che avviene e non lascia delusi i telespettatori anche se per onor del vero poteva essere meno compassato e filosofico e più di combattimento puro questo ovviamente è il parere soggettivo di un fanatico di combattimento ma oggettivamente bisogna ammettere che lo sconto offre delle tecniche eccelse e un'animazione che si innalza dalle serie precedenti o dalla parte precedente sia dal punto di vista anatomico sia per i disegni che mantengono sempre mutato la caratterizzazione a bordo nero spesso ma diventano immensamente definiti sia nelle immagini posturali che in quelle anatomiche senza anatomiche scusate senza disdagnare le espressioni facciali ovviamente rimangono comunque alcune piccole piccole lacune tutto il comparto grafico si innalza a un livello decisamente superiore non perfetto come vi ho già detto ma indubbiamente di alto livello anche se rimangono alcune ingenuità della computer grafica che cozzano con lo spettacolo complessivo lo si nota in prevalenza sui soldi che in una scena piovono dal cielo mentre io giro essendo su un trono scusate la metafora proprio in un acqua e questa questa immagine rievoca almeno a me il primo con il barbaro con schwarzenegger e un'altra nella petropolitana dove appunto il treno è fatto in computer grafica e infine nella maglietta rosa viola che vi mostro qua che indossa vacche che a volte sembra un pugno in un occhio pregevole invece l'effetto sulle scale mobili come ho accennato in precedenza l'ultima parte lega tutto ciò che prima sembrava slegato richiama i fuggitivi che nella serie vacche arrivano in cerca di gloria mostra nuovamente la compagna di vacche che molti c'è dove è andata a finire si rivede fa rivedere fra gli altri anche il figlio del grande arriera presenta un vero anello di congiunzione tra ciò che è stato e quello che ci accingiamo vi accingerete a vedere perché io appunto l'ho già visto molte morali filosofiche passano nelle frasi pronunciate da yugiro dal non arrendersi mai ad essere padroni del proprio destino per arrivare alla povertà e il dover difendere i più deboli davanti alle incessanti avanzate commerciali dei più potenti il tutto sia ben chiaro nel rispetto della natura e degli esseri viventi dei quali nostro malgrado ci cibiamo vengono donate anche molte metafore del rapporto padre figlio del rapporto familiare di quello che dovrebbe essere comunque un legame indissolubile che dovrebbe legare appunto tutti i membri del medesimo nucleo familiare quello che forse manca ma solo lo ribadisco per i fanatici come me è qualche minuto in più del combattimento più epico dei combattimenti che poi nella realtà per me risulta forse meno epico ma più complesso appunto per le metafore utilizzate di quello avvenuto con alcune pose ricordano alcune pose alcune immagini alcune inquadrature ricordano lo scontro fratricida tra ken il guerri tra ken ovviamente occultano ken ken shiro e raul e al di là delle opinioni personali lo spettatore non potrà che rimanere soddisfatto da questa ultima parte della serie della conclusione della serie che va a congiungere tutto quello che abbiamo visto chiaro è e qui arriviamo alla conclusione di questa recensione che chi non ha apprezzato ovviamente le parti precedenti non è che questa ultima parte le andrà a rinnovare tutto quello che ha già visto quello che ha già visto rimane questa è semplicemente una conclusione che per me merita di essere guardata soprattutto per chi ha apprezzato i prodotti precedenti con un voto complessivo a questo punto che era partito con un 6 per poi andare un 6 e mezzo si conclude con un 7 per tutto quello che vi oggi ha detto oltre per me non può andare pur essendo un prodotto pregevole un anime dedicato a chi apprezza comunque i combattimenti che esulano dei combattimenti classici ma vanno un po' nel paranormale con figure quasi mitologiche che esprimono una potenza che appartiene a super uomini quasi a super saian anziché a persone normali un diciamo un prodotto che comunque ripercore in tutto il suo tragitto una storia che alla fine è completa abbastanza complessa che va a richiamare molte metafore che potrebbero essere comunque anche insegnamenti come proprio lo furono per la nostra generazione i cartoni degli anni 80 sicuramente una perla per le amanti del genere e sconsigliato invece a chi non apprezza particolarmente questo genere di combattimento questo combattimento diciamo smodato spropositato sproporzionato che va a ingigantire ogni singola cosa facendola diventare paranormale per queste persone per chi cerca combattimenti più sobri allora avranno la facoltà di gustare levius, kenga, asciura o altri prodotti che trovate recensiti su questo canale che vi invito comunque a guardare io come sempre vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione vi invito a lasciare un vostro commento per farmi sapere che cosa ne pensate del prodotto e che cosa ne pensate della mia o delle mie recensioni e come sempre vi auguro una buona giornata un ciao da Emi